Migliorare i rapporti tra i due enti e garantire l'efficacia degli investimenti programmati nei porti di Pescara e di Ortona. E l'obiettivo del protocollo siglato ieri pomeriggio a Pescara tra Regione Abruzzo e Autorità Portuale del Mare Adriatico Centrale, un atto di collaborazione che serve a rendere scorrevole il quadro degli investimenti sui porti di Pescara e di Ortona, a partire dal taglio della diga foranea di Pescara per finire alle iniziative che riguardano la promozione dell'arrivo di nuovi vettori. Valorizziamo il grande lavoro che abbiamo in cammino. Noi abbiamo un lavoro importante sia sul porto di Pescara che sul porto di Ortona e con questo quadro collaborativo non lo rimettiamo in discussione, lo spingiamo in avanti e lo sottoponiamo ad un coordinamento di vigilanza, controllo, di monitoraggio che ci torna utile rispetto al massimo di efficacia della spesa. E poi vogliamo anche una correntezza di procedura corretta che ci autorizza, che ci consente proprio l'autorità del sistema portuale di Ancona. Ho sempre parlato di 215 chilometri di macchina virtuale proprio per fare una grande opera nuova, innovativa, di strategia economica del mare. Abbiamo sempre parlato di Blue Economy, bisogna declinarla in valore effettivo e in atti concreti. Questo è un grande atto concreto. Da oggi è un ulteriore elemento che mette in condizione la regione Abruzzo di essere profondamente e strategicamente attenta ai suoi due porti, trasformandoli in porti di alta qualità.